Good evening girl, ladies and chamberlain, anche oggi, ancora una volta Riff and React, ancora una volta Faiaccia, questa volta le risparmio finalmente il wrestling. Grazie, almeno quello. E le fico dentro qualcosa di strano, di anomalo, nella persona di Poppy. Spero che qualcuno di voi, di quelli che ci stanno guardando, sappia chi o cosa sia Poppy. Chi non lo sa. Chi non lo sa. Esatto, ma soprattutto chi altro non lo sa. Si prepari, perché sarà un'altra di quelle esperienze che ve le consiglio. Quindi direi che anche questa volta è il momento di cominciare. Sì, prepariamoci. Di Poppy non hai mai sentito parlare fino ad adesso, giusto? No, no, l'unica che conosco è quella di League of Legends, di Poppy. Non ne conosco altro. Allora, molto semplicemente, è una youtuber slash cantante. Personalmente, mi sento di dire che è come se si incrociassero alcun nemico e che lo guardo che si incrociassero. Ah, ok. Quindi è un po' quello stile. Sì, un po' dell'uno, un po' dell'altro. Ok, perfetto. Parti con i video. Ok, vado, vado. Sì. Andiamo a vedere questa Poppy. Allora, va bene. Inizia già bene. Eh, ma è il video giusto. Cioè, no, va bene. È trash questo. Puro proprio. Non mi fa paura. Vabbè. Vabbè, mamma amora. E più di nuovo. Ma perché cosa? Cosa era? E questo era uno. Ok. Vabbè. Mamma. Non lo so, dimmelo tu. Ha una voce strana. C'era tipo... Vabbè, ma non te lascio dell'altro questo almeno. Eh, va bene. È un po' impietante questo, però. Questa è un'inquietudine diversa. Questo è horror proprio. Horror puro. Cioè... È sempre questo? Come anche nell'altro video, perché non manca. Ma è il suo marchio di fabbrica? All'incirca. È un po' più... Ok. Fallo avanti. Ma è stato proprio tranquillo. È il prossimo. Meno male, dai. Speriamo. Speriamo. È un po' di accio nemico. Poi mi ricorda a misa a mano di Death Note. Un po' così. Cosa facciamo? Come sono le donne qua? Basta. Non lo so, mi inquieta. Non lo so, passa dall'inquietudine al trash. Non lo so cosa dire. Vabbè. Ok, ancora? Andiamo, andiamo. Però è bella, è bella ragazza. Partiamo. Poi ci va la storia, attenzione. Ok. No. Ma la faccia. Ehi, you don't know what it's like to be me. I'm out of here. Oddio. Fa video particolari. Cioè, molto particolari. Mi fa un po' paura. E... Salta il video musicale a vedere quanto gli altri tre. Questi tre. Sì, questi tre. Sì, questi tre lo tiriamo col vivo. Ok. Dove? Ah, questa... Di nuovo? È il continuo di quello di prima? Perché è uguale, l'ambientazione è la stessa. I pre... Che ti fai bene, amica mia. Sì, ma... 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 No, no, non lo so, sembra, vabbè, non puoi dire, oh, no, no, possiamo perdere, oh, no, no. Ciao, una voce diversa, ciao, piacere. No, 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 io no, no, tutta sola, io non ho niente o niente. No, io toco questo suono, non c'è tanto, non lo so, mi fa molta inquietudine. Ok, adesso è levato proprio il pezzo forte, mi hai lasciato proprio il meglio per ultimo, il video musicale, per il suo ultimo singolo. Che bello, andiamo! Oddio, quando mi rimangio quello che ho detto, ma che è? C'è la corona di Croce in testa. Tutti felici, no? La famiglia degli hippie, proprio. Vabbè, dai, qui è meno inquietante, dai. Non canto vittoria, perché non si sa mai. Ecco, infatti! Hai cambiato stile, da così a così. Oddio! Le riprese però sono... bellissime. Oddio, che ansia! Ma qui è Misa, c'è uguale. Però è brava a cantare, dai. Almeno quello. Si può... Però... Ma che... Cioè, piena di sangue? Che canta stà... Oddio! Cosa ti ha fatto? Sveee... Abbracciamoci, tutti dici... Prega, prega, prega. Oh no! Di nuovo! Cambiata di nuovo! Yeah! Bop! Aiuto! Eh, ma datti una calmata, cioè... E poi cambia di nuovo, cioè... E anche un po' Lady Gaga, che un po' cambia i stili, un po' così. Vabbè. Vabbè. Ah, pure. Ti baci, pieni di sangue, la positività. Vabbè, cos'è? Però è bella, devo dirlo. Ah, pure! Un occhio, pure finale, perché quello non doveva mancare. Quindi, l'impressione sul... Allora, su lei... Sul popin totale? Allora, su lei è trash. Cioè, lei è... Secondo me fai video apposta, fatti così, perché è impossibile. Poi, non lo so, cambia l'atteggiamento, tipo... E poi diventa tipo satanica, cioè cambia da così a così, non lo so. Poi mette questi suoni fastidiosi sui video, cioè lo fa proprio apposta per infastidirti. Invece nel video musicale, cioè, boh, inizia tutta hippie, tutta carina e poi piena di sangue. Dio, dammi il tuo sangue. Cioè, vabbè, però la voce è bella, devo ammetterlo. Voce è bella, riprese è belle. La canzone è molto bella. Però lei è Reil. Cioè, proprio lei è Lady Gaga. È un misto tra Lady Gaga, Misa, Miku, è tutto un misto. Cioè, non lo so, lo scapisce. Però dai, è carina. Quindi sareste disposta ad ascoltarne anche in futuro altre altre canzoni? Sì, dai, sì. Alla fine sì. Mi ricorda che come stile è un po' lui di meraviglia. Cioè, solo che lei è la lì di meraviglia inglese, cioè, un po' si somiglia. Però sì, dai, è figo, mi piace. È uno stile un po' bello. Dai, sì, sì, ascolto. E questa è la Poppy. Per chi non la conoscesse e perché non la conoscesse già. Io per primo non conoscerla. E dai, alla fine. Dal punto di vista musicale c'è del potenziale. Ne sentiremo parlare. Sì, sì, sì. È ancora circoscritta agli Stati Uniti. Quindi quando arriverai in Europa, puoi dire, io l'ho ascoltata per presa. È la regina del mondo. Molto probabile. Stiamo attenti. Ho detto questo. Possiamo chiudere per oggi. È stata una bella esperienza, sicuramente. Grazie di tutto. Ringraziamo Faia. Ancora una volta il suo Ko-fi e il suo Patreon. Ricordatelo. Aiutate anche lei. Oltre ad essere youtuber è anche una... Non ti ho amato a sederci. Te l'ho già detto anche prima volta. Non azzardarti a smettere. Grazie. Ti cerco a casa. Oddio. Con lei, con Poppy. Esatto, con Poppy. Ma la porto solo per ti cerco a casa. Non ti prego. Poi capire. Non dimenticate di mettere in piaccia, commentare e condividere. Ma soprattutto iscrivetevi. Iscrivetevi, fate bene. Fate bene, iscrivetevi. Adject Wrapper. E se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete. Non sono sicuro di voler riconoscere.